Buona domenica e benvenuti all'analisi ciclica evoluta sul DAX e sul Fuzzinib. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che giovedì, nonostante le costanti finte rialzo, abbiamo avuto un crollo pazzesco del mercato, in pochissimo tempo peraltro, e abbiamo soddisfatto la condizione di chiusura non soltanto del T settimanale, ma anche del T1 e anche del T2, ma non del T3, perché un T3 chiede una chiusura sotto questo minimo a 11.597, per cui esaurito il tempo del T2, del secondo T, del secondo T1 bisettimanale, del secondo T2 mensile del T3, iniziato quindi insieme a un T4 e un T5 annuale, cosa è successo? Come d'attese, rimbalzo. Rimbalzo per che cosa? Il titolo di venerdì diceva tutto, ovvero raccordo, potenziale raccordo ciclico. Anche perché tra un T3 trimestrale e un T3 trimestrale ci può essere tranquillamente un raccordo. E il raccordo sapete perfettamente di quanti gradi inferiori rispetto al ciclo deve essere. Quindi quanto minimo bisognerà salire, probabilmente ancora per lunedì o rimanere sopra questo minimo a 12.416, l'importante in realtà è quello. E poi che cosa può succedere? Queste sono, diciamo, sempre le basi dell'analisi ciclica e parte, una piccola parte dell'analisi ciclica è voluta. Però sono riflessioni che continuano a darci valide soddisfazioni in termini di guadagni. Bene, giovedì poi, 9 luglio, è stato fantastico, assolutamente fantastico. Per cui, adesso sapete cosa aspettarvi e sapete un'altra cosa, che se anche lunedì saliremo potremo andare a provare ad aggiornare in massima lateralizzare in maniera appunto sopra questo minimo, successivamente da martedì in avanti, occhi puntati su che cosa succederà. Perché se dovessimo appunto continuare ad andare in chiusura del t più tre trimestrale, come detto andremo a finire perlomeno sotto questo minimo a 11.957. In questo momento sono quasi 700 punti, non sono uno scherzo. Tenete presente che prima si potrebbe incontrare questo livello di ritracciamento a 12.263, ne è uno più preciso ancora con l'algoritmo. Successivamente, se andremo appunto in violazione di questo, praticamente andremo, potremo avvicinarci persino a questo ritracciamento di Fibonacci. D'accordo? se invece succederanno determinate cose, attenzione perché come detto da qui può partire serenamente appunto per la ciclica voluta, non per la ciclica base, che si adatta meno al mercato rispetto alle volute, un nuovo t più tre. Ci sono tutte le condizioni già pronte per averlo. Lato inverso che cosa abbiamo? Abbiamo un primo t inverso a 11, un secondo t inverso a 8, che continuano a essere estremamente laterali perché di poco sotto questo massimo a 12.913. Successivamente, con la divergenza che vi avevo segnalato, abbiamo iniziato a scendere per far partire il terzo t inverso, ma anche nella realtà dei fatti un secondo t più 1 inverso, un secondo bisettimanale inverso, che peraltro, essendo arrivati ampiamente oltre le 3-4 candele sotto questo massimo, è già partito, cioè possiamo già darlo teoricamente per partito. E in questo momento persino il suo primo t inverso, o comunque eventualmente un 3 tempi fatto con un terzo t inverso, è già arrivato alla bellezza di 5 giorni. Quindi è una seconda riprova che domani potremmo tranquillamente andare a provare ad aggiornare i massimi e come minimo lunedì superare i 12.649. Come minimo. Fare 12.650 anche soltanto. Ok? Questo perché avremmo in questo modo la chiusura, o almeno la condizione sufficiente, parlo come durante una lezione di matematica, perché è matematica, è statistica, sono onde sul mercato, avremo la condizione sufficiente per la chiusura di questo t inverso, sufficiente e attenzione minima, sostanzialmente. Per quanto riguarda sempre cosa è successo appunto da venerdì in avanti, partenza a rialzo come d'attesa per il raccordo, come detto. Con tra l'altro una bellissima spinta a rialzo, per cui chi comunque avesse voluto valutare di farlo, dopo le prime 2-3 candele, è arrivata la spinta volumetrica data dagli HFT, successivamente c'è stato un ripiegamento e poi siamo di nuovo ripartiti verso l'alto. E abbiamo trovato sempre comunque una bella resistenza data dalle due medie mobili che peraltro sono andate in death cross. Sono parallele, però siamo andati in death cross. Anche questa è una riflessione da fare. Per cui, spostiamoci ancora su un altro mercato. Stessa identica situazione per quanto riguarda il nostro T inverso. È molto simile per quanto riguarda l'indice, il Fuzzimib. Solo che abbiamo avuto qui un raccordo. Perché? Perché da questo minimo, allora, da questo minimo non ci si può arrivare. Da questo a questo ci si ferma qua. A 44 barre esatte, peraltro durata massima. Qui andiamo a 57, per cui qui si è chiuso il nonno T-3. Qui ha fatto una bella finta rialzo e poi, in violazione appunto di questo minimo, si poteva serenamente andare sciolto e andare a guadagnare. Successivamente, anche in questo caso, possibile raccordo in arrivo. Anche qui, andiamo a vedere e a aggiornare eventualmente appunto il grafico. Abbiamo avuto, guardate che roba, un secondo T settimanale a 11 barre massimo. Successivamente, dopo la durata massima, casualmente, ma dimmi tu che è strano, rimbalzo. Se vuole partire un nuovo t più 1, se vuole partire un raccordo. Comunque, dopo la durata massima, ciclica, stranamente, siamo rimbalzati. Capite? Quando vedete determinate cose, quando vedete una precisione a volte veramente millimetrica, non potete che apprezzare il fatto che avete per le mani delle analisi quantitative che vi dicono che cosa può succedere con grande probabilità. Ma che poi succede? Per quanto riguarda l'inverso, peraltro, siamo arrivati a 19 barre, primo T più 1 inverso, primo B settimanale inverso. Successivamente, 1, 2, 3, 4, siamo alla quinta candela, più la giorno. Per cui, anche in questo caso, esattamente come per il DAX, tranquillamente potremmo avere una chiusura di inverso, quindi un rialzo, prima di andare poi di nuovo a vedere se tratteremo appunto di un raccordo, si tratterà di un raccordo, oppure se esattamente come lì da qui può essere partito un nuovo T più 3. Io continuo a dubitare. Poi, la mia ipotesi principale è raccordo, vediamo. Tanto l'importante è sapere che probabilmente di nuovo lunedì aggiorneremo i massimi. Basterà andare semplicemente sopra i 12.390, 12.000, 19.770, sopra i 19.970 per andare ad avere una condizione minima e sufficiente per la chiusura del terzo T inverso che potrebbe aver dato vita anche in questo caso a un secondo T più 1 inverso, un ciclo di settimanale inverso. Tutto identico, tranne che per le tempistiche poi appunto separate. Per cui, notate peraltro come su questo livello di Fibonacci si è continuando a battagliare per salire, ma per ora non ci si stia riuscendo. Vediamo se si vuole andare appunto in chiusura, anche in questo caso del T più 3 iniziato su questo minimo del 16 marzo, che dovrebbe andare a finire sotto i 18.878, appunto, entro il tempo di un raccordo ciclico tra un T più 3 e un T più 3 che sapete quindi perfettamente che durata devo avere. Vi ringrazio per l'ascolto, oggi sarà una splendida giornata perché ho deciso così, le scorse giornate sono state favolose, per cui continuiamo così. Buona domenica a tutti!